Ciao a tutti ragazzi, ma perché tu? Ma perché tu mi devi fare la intro? A che se c'entri? Siamo tornati sul suo canale, andiamo a fare un moto giro un po' particolare e facciamo anche delle foto Ho fatto tutto lui, non posso dire niente, va bene Ma perché prendi il controllo del mio canale da quando? L'ho capito? Vabbè ragazzi, l'ho fatto lui e andiamo a farci sto giro Se vedete che ho dei guanti diversi dal solito è perché i miei vecchi guanti si sono un po' rovinati e sono da cambiare Quindi normale usura, poi vedrò un attimino di rimpiazzarli con qualcos'altro Questi guanti qua li utilizzo giusto come sostituto provvisorio Giornata un po' ventosa e un po' freschetto fa, a dire verità Cos'è questa cosa qua? Oh mio Dio Un carro armato su tre ruote Era dall'altra parte questa la strada Mi sa che abbiamo sbagliato strada Ho capito Andre, perfetto La mamma che prima si è fermata ha detto Devo pensare bene alla strada Ah sì, me la ricordo Perfetto Ma forse in teoria ci arriviamo anche da qua, sai? Pure la polizia Ma porca mia E la madonna che cane è quello lì? È enorme Se non sbaglio qua a destra E infatti Mi ricordavo bene Che cazzo sta facendo? Che cazzo sta facendo? Che se pseudo pieghe gomito a terra Quel faro a led lì mi ha fatto abbagliate e mi ha accecato Porca puttana È un faro a led, è un faro a laser Non so se dove cazzo era Stava andando contromano Tutto in un'altra crossia Vai Andre, sposta sto culo Attenzione al sorpasso E me lo sono già perso Andrea Ah ok C'è c'è Porca troia che male Cos'hai fatto? Ma adesso quanto mi sono passato Quindi ho sentito Pam Un insetto grosso così hai preso Porca troia Interribile Chi si è spaventato quando ti è passato? Mi chiede che c'è qua Fotuzza Ah la schiena Non c'è più l'età Guarda di cambiare moto Prendi uno comodo Ma va a chagare Quando avrò 80 anni Forse passerò alla naked Forse Con bastone lo attacco tipo qua così No, lì al bar con gli amici a giocare a burraco Con tutti i giorni a burraco Vabbè La moto parcheggiata lì 5 km a stagione Casa bar Bellissimo Come in temperatura E il bar sotto casa Non un bar Il bar sotto casa Vicino al garage Scende giù la cella Ma basta Noi scherziamo Ma c'è gente che fa veramente così E non è anziana Però vabbè Lasciamo perdere Stendiamo un velo pietoso Sono vede un cazzo Allora ragazzi Mi raccomando Guardate anche le foto che abbiamo fatto oggi Perché sono veramente fighe Iscrivetevi al nostro canale di Instagram Anche al mio Ma fa tutto lui oggi Non ho capito Non devo più dire niente Basta Basta E' segretario Allora le foto le abbiamo fatte Prossimamente su Instagram Sì sì Con calma Infatti tipo 3 ore che sono pronto No quanti insetti Basta Facciamo notte Pronto Pronto ciao Ciao a te Dimi Ce la faremo ad andare a partire Un secondo che Ok Check sound Chiamo a MT07 MIV Completo Video Video già fatto sul canale di Andrew Catalizzatore E di BKILL In regola Regola totale Euro 4 Euro 4 Euro 4 Minchia è già Euro 4 Me coglioni Andiamo all'accesione Prego Voto 8 8 8 Voto 8 Voto 8 Ok Madonna E' il video di Farchesina o no? Va bene ragazzi Andrea Andrà a casa E io vi ringrazio Per la visione di questo video Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Di condividere il video Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto E mi raccomando Attivate la campanellina Ciao ragazzi Ciao